inutile dirvi l'emozione signor presidente della repubblica signora presidente della corte costituzionale signori ministri autorità civili militari e religiose caro presidente di un camere colleghi gentili ospiti vi do il benvenuto a firenze e benvenuti nella più antica camera di commercio d'italia che ho l'onore di presiedere siamo in una delle capitali imprenditoriali del paese donne uomini capaci di produrre ma anche di valorizzare le cose che piacciono al mondo e non parlo solo di opifici e di fabbriche ma di servizi turismo agricoltura food artigianato un sistema economico vivace e diffuso che ha chiuso il 2022 con un aumento del pil vicino al 4 per cento e con un incremento delle esportazioni a doppia cifra a conferma dalla nostra vocazione dell'export ma conferma soprattutto che noi imprenditori attraverso le difficoltà siamo diventati più forti e lo dico con convinzione le imprese fiorentine come quelle italiane hanno dimostrato resistenza alla crisi e capacità di ripartenza e hanno continuato a portare alta nel mondo la bandiera del nostro saper fare lo dico con orgoglio signor presidente perché le imprese sono state il nostro principale antidoto alle difficoltà il segno concreto di quel coraggio al quale lei ci invita costantemente e a cui è dedicata queste due giorni di lavoro scusate ma l'emozione forte perché dopo otto anni di lavoro l'orgoglio è quello dell'imprenditore in questo caso anche l'emozione che non è di intelligenza artificiale perché come gli altri colleghi presenti io sono un imprenditore e il requisito per presiedere le camere di commercio enti pubblici guidati da persone che privatamente fanno impresa consideriamo un onore poter lavorare per il bene pubblico e la maggioranza delle nostre 5 milioni di imprese che fanno parte del sistema camerale vanno in questa direzione sono guidate da questo principio oggi e domani parleremo di futuro perché il futuro è il nostro orizzonte di riferimento ma questa come dicevo è la camera più antica d'italia in questo breve saluto voglio ricordare le parole del motu proprio con il quale nel 1770 pietro lopoldo granduca di toscana istitui questa camera di commercio parole che sorprendono per la loro contemporaneità e danno il senso del lavoro da portare avanti fra le nostre moderne premure scriveva la granduca essendo una delle principali quelle di aumentare le manifatture e il traffico del nostro granducato e conoscendo l'importanza che tali affari siano regolati con massime costante e uniformi e sotto una sola direzione abbiamo determinato di abolire le diverse magistrature e tribunali di Firenze e di confidare la direzione a un solo magistrato tribunale per questo creiamo una camera di commercio arti e mercature per sovraintendere al buon governo di tutti gli affari relativi a tali importanti oggetti direi che sono passati due secoli e mezzo ma pietro lopoldo continua a parlarci mi riferisco in particolare a quelle regole costanti e uniformi che le imprese italiane ancora e non da oggi chiedono a grande voce oggi parleremo anche di sostenibilità della pubblica amministrazione Ministro è un tema centrale perché gli imprenditori hanno bisogno di un mondo normale, semplice sottolineo normale, semplice dove poter lavorare da quello che ho visto in questa esperienza al vertice della camera di commercio di Firenze non posso tacere che il groviglio di regole che stringe le imprese rischia di soffocarle poche cattive imprese hanno innescato un meccanismo perverso che condiziona negativamente la vita di milioni di imprenditori onesti e virtuosi la strada non è quella di moltiplicare le regole queste saranno sempre eluse da chi vuole eluderle e continueranno a complicare la vita alle imprese socialmente responsabili quelle orientate alla creazione di valore per tutti gli stakeholder in primo luogo dipendenti e clienti le camere di commercio sono qui per dare una mano a queste imprese il sistema cameriale italiano è impegnato ad aiutare la crescita dell'economia sana così come aveva immaginato Pietro Lopoldo quanto costituì questa camera in nome di una visione moderna dello sviluppo fu il primo passo di una storia che grazie alle colleghe e ai colleghi di tutte le Camere d'Italia e di Union Camere prosegue ancora oggi con successo buon lavoro a tutti noi dunque e grazie ancora signor Presidente per il suo continuo richiamo ad essere tutti i protagonisti di un paese migliore viva il coraggio, viva l'Italia